Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni. Buonasera a tutti. Negli episodi precedenti abbiamo visto che Gabriella Rossi si è trasferita a Parigi per lavorare come stilista e per raggiungere suo marito Cosimo. Nonostante ciò, sembra che Bergamini sia destinato a tornare a Milano, come è stato anticipato tempo fa da una storia di Instagram di Alessandro Terzigni. Tuttavia, sembra che Cosimo torni a Milano senza sua moglie. Il figlio di Arturo tornerà a Milano a dicembre del 1962 in periodo natalizio. Come detto, tornerà senza Gabriella e quindi lecito chiedersi che fine ha fatto l'assilista. Nonostante Cosimo torni da solo a Milano, sembrano che le cose tra lui e Gabriella vadano a gonfie vele. Sono quindi una delle poche coppie del Paradiso delle Signore che reggono al tempo. Infatti Bergamini torna nella capitale della moda non perché è in crisi con la moglie, ma per motivi economici e finanziari.